Tanta paura, per fortuna solo quella. Gio Camarà tiene in ansia i tifosi del Cadanzaro, ma alla fine le notizie sono confortanti. L'attaccante giallorosso si è infortunato nel corso dell'ultimo allenamento in uno scontro di gioco con il compagno di squadra Pagano, riportando una forte contusione alla caviglia a sinistra. Dopo la paura iniziale, però, le condizioni di Camarà si sono subito tranquillizzate. Visitato al pugliese Ciaccio, il campione franco senegalese si è sottoposto agli esami del caso, che hanno scongiurato qualsiasi frattura, per lui solo una distorsione giudicata guaribile in pochi giorni. Un sospiro di sollievo per i tifosi e per lo staff tecnico. Mister Moriero proverà a recuperare il suo attaccante per la prima di campionato prevista per il 30 agosto nell'anticipo del Ceravolo contro la Juve Stabia. Questo ovviamente qualora il club giallorosso non venga ripescato in Serie B. Eventualità non impossibile, stando alle ultime notizie trapelate da Roma. L'US se la giocherà fino alla fine con Juve Stabia, Salernitana, Como e Pisa, ma non è davvero il caso di sbilanciarsi, anche perché se la Corte del CONI accoglierà la richiesta urgente del Novara, spalancando di fatto le porte alla cadetteria alla squadra piemontese, i discorsi fatti in queste ore saranno solo chiacchiere, aspettando il 25 agosto e di quasi sicuri ricorsi nei tribunali competenti.